buongiorno a tutti eccoci qui pronti per una nuova avventura oggi non andremo nel in alta lessigna quindi niente percorsi sopra i mille metri ma partiamo veramente bassi oggi partiamo dalla frazione di verona montoglio veronese in particolare partiremo dal pieve di santa maria assunta a cui siamo quasi arrivati allora il percorso di oggi ci porta fino nella bassissima lessigna quindi nel comune di grezzana in particolare raggiungeremo il paesino di romagnano quindi eccoci qua siamo arrivati guardate questa è la pieve di santa maria assunta a montorio quindi dicevo partenza da montorio percorreremo un breve tratto di quella che viene chiamata la dorsale delle cinque valli arrivati a romagnano torneremo indietro verso montorio passando da una delle salite più famose della zona che è il piccolo stellio bene siamo pronti e allora andiamo ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.